Misha e Mika, insieme a Clemen e Barbara, entrambi campioni sloveni della professional divisione di Eccitati. Misha e Mika, insieme a Clemen e Barbara, sono i campioni sloveni professionali 10 danze. Perché la danza è una meraviglia storia senza limiti. Ladies and gentlemen, Misha e Mika. Misha e Mika 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 Misha 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 e Misha 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 Misha